Sì, molti anni che ci conosciamo, quindi il rapporto va anche al di là nell'ambito sportivo e inizia una nuova avventura e ci auguriamo che anche questa ci regali delle soddisfazioni, siamo qua per questo e mi auguro capiti proprio questo. Nasce Ravenna, giocavo ed ero il capitano di quella squadra, è nato subito un rapporto di stima reciproca sia professionale che umana e poi quando c'è stata l'opportunità di andare a collaborare con lui l'ho colta perché credo che sia una persona che mi rispecchi tutto per tutto. È una persona che nel tempo io l'ho trovato molto modificato, molto curioso, cerca sempre delle varianti, non si limita a rimanere a lavorare su quelle nozioni acquisite ma cerca sempre un qualcosa di diverso, quindi credo che questa sia una delle peculiarità dell'allenatore, nel senso che l'allenatore deve sempre guardare avanti, deve sempre trovare dei particolari da modificare e credo che questa curiosità sia una delle caratteristiche principali dell'allenatore. Io sono di Chiavari, per la prima volta dopo un peregrinare continuo, quindi dall'81-82 che io sono fuori, rientro nel mio territorio, nella mia regione, mi auguro, ripeto, a parte l'emozione e gli stimoli che sicuramente questi qua non mancano, mi auguro di riuscire a regalare soddisfazioni per quello che mi compete. Grazie a tutti!